buongiorno qui si vola bellissime condizioni stamattina sole pieno andiamo giù all'asco verso sud est il vento finalmente ruotato a 0 10 0 15 e quindi mettiamo proprio a sud ci avviciniamo verso l'ice limit va girando questa depressione che sta al nostro sottovento e comunque una bella scia è anche una buona velocità stamattina si va finalmente buona giornata a tutti a Sibiri